Oltre 600 pacchetti di sigarette sequestrati è un moldavo di 43 anni denunciato dalla Guardia di Finanza. È accaduto in via Longhin, dove una pattuglia delle fiamme gialle in Borghese ha notato un uomo che cercava di nascondere delle scatole tra i rovi di un cespuglio lungo la strada. È scattato così il controllo del contenuto e sono spuntate 61 stecche di sigarette importate illegalmente dalla Moldavia e pertanto prive del sigillo del monopolio dello Stato italiano. Sigarette dai marchi più ricercati dai fumatori per un peso complessivo di oltre 12 chili immediatamente sequestrate. Il 43enne, residente a Padova e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla Procura per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.